Dopo lo sfogo di Antonella Fiordelisi, che in una diretta Instagram si è scagliata contro Edoardo Donnamaria, quest'ultimo ha rotto il silenzio pubblicando una storia su Instagram. Mi dispiace per come sono andate le cose, dirò poche parole. La privacy non c'entra nulla e l'ho spiegato più volte. Ho deciso io di non comparire più sui social con Antonella perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale. Li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante. Non racconterò fatti privati perché. Spu asterisco asterisco anare delle situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliano bene e soprattutto che la consiglino bene. Non fate carne da macello, dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono. Cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti. Io speravo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare forse ne ho bisogno anche io. P.S. Non mettete in mezzo persone che non c'entrano nulla, anche se per alcuni di voi è difficile crederlo. Ho 30 anni e sono in grado di decidere cosa fare della mia vita. Grazie.